Con accento di tristezza, l'imperatore si rivolse a loro dicendo «Che cosa posso fare ancora per voi, strani uomini? Che volete da me? Io non lo so. Ditemelo dunque voi stessi, o cristiani abbandonati dalla maggioranza dei vostri fratelli e capi, condannati dal sentimento popolare, che cosa avete di più caro nel cristianesimo?» Allora, simile a un cero candido, si alzò in piedi lo starez Giovanni e rispose con dolcezza «Grande sovrano, quello che noi abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso. Lui stesso è tutto ciò che viene da Lui, giacché noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità. Da te, o sovrano, noi siamo pronti a ricevere ogni bene, ma soltanto se nella tua mano generosa noi possiamo riconoscere la santa mano di Cristo. E alla tua domanda, che puoi tu fare per noi, eccoti la nostra precisa risposta. «Confessa, qui ora davanti a noi, Gesù Cristo, figlio di Dio, che si è incarnato, che è risuscitato e che verrà di nuovo. Confessalo, e noi ti accoglieremo con amore, come il vero precursore del suo secondo glorioso avvento». Egli tacque e piantò lo sguardo nel volto dell'imperatore. In costui avveniva qualche cosa di tremendo. Nel suo intimo si stava scatenando una tempesta infernale, simile a quella che aveva provato nella notte fatale. Aveva perduto interamente il suo equilibrio interiore, e tutti i suoi pensieri si concentravano nel tentativo di non perdere la padronanza di se stesso, anche nell'apparenza esteriore, e di non svelare se stesso prima del tempo. Fece degli sforzi sovrumani, per non gettarsi con urla selvagge sull'uomo che gli aveva parlato e sbranarlo coi denti. A un tratto sentì la voce ultraterrena, a lui ben nota, che gli diceva «Taci, e non temere nulla». Egli rimase in silenzio, però il suo volto, rabbuiato e col pallore della morte, era divenuto convulso, mentre i suoi occhi sprizzavano scintille. Frattanto, durante il discorso dello starez Giovanni, il gran mago, che stava seduto tutto ravvolto nel suo ampio mantello tricolore, che ne nascondeva la porpora cardinalizia, sembrava occupato a compiere sotto di esso arcane manipolazioni. I suoi occhi, dallo sguardo concentrato, scintillavano, e le sue labbra si muovevano. Dalle finestre aperte del tempio si scorgeva avvicinarsi un'enorme nuvola nera. Lo starez Giovanni, che non staccava i suoi occhi sbigottiti e spaventati dal volto dell'imperatore, rimasto mutolito, a un tratto diede un sussulto per lo spavento, e voltandosi indietro gridò con voce strozzata «Figlioli, è l'anticristo!» Nel tempio scoppiò un tremendo colpo di tuono, e simultaneamente si vide saettare una folgore enorme, a forma di cerchio, che avviluppò il vegliardo. Per un istante tutti rimasero come annichiliti, e quando i cristiani si furono ripresi dello stordimento, lo starez Giovanni giaceva a terra cadavere. L'imperatore, pallido ma calmo, si rivolse all'assemblea dicendo «Voi avete veduto il giudizio di Dio. Io non volevo la morte di alcuno, ma il mio padre celeste vendica il suo figlio prediletto. La questione è risolta. Chi oserà contestare i voleri dell'Altissimo?» «Segretari, scrivete, il concilio ecumenico di tutti i cristiani, dopo che il fuoco venuto dal cielo ebbe folgorato un insensato avversario della maestà divina, riconosce all'unanimità il regnante imperatore di Roma come suo capo e supremo sovrano». A un tratto una parola squillante e distinta si propagò per il tempio. Contradicitur Il Papa Pietro II si alzò in piedi e col volto imporporato, tutto tremante di collera, sollevò il pastorale in direzione dell'imperatore. «Nostro unico sovrano è Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, ma ciò che tu sei l'hai sentito. Vattene da noi, Caino fratricida. Via da noi, vaso del demonio. Per l'autorità di Cristo io, servo dei servi di Dio, ti scaccio per sempre dal recinto divino, cane schifoso, e ti consegno al padre tuo, Satana, anatema, anatema, anatema». Mentre egli parlava, il gran mago si agitava inquieto sotto il suo mantello. Più fragororoso dell'ultimo anatema, ribombò un colpo di tuono e l'ultimo Papa cadde a terra inanimato. «Così, per mano del padre mio, periscono i miei nemici», disse l'imperatore. «Pereant, pereant!» si misero a gridare i tremanti, i principi della chiesa. Egli, si volse, appoggiandosi alla spalla del gran mago, uscì lentamente dalla porta, che stava dietro il palco, accompagnato dalla folla dei suoi seguaci. Nel tempio erano rimasti due cadavri e un cerchio ristretto di cristiani, mezzo morti dalla paura. L'unico che non aveva perduto il suo sangue freddo era il professor Paoli. Il terrore generale pareva stimolare tutte le forze del suo spirito. Era mutato anche nel suo aspetto esteriore e aveva assunto un'aria maestosa e ispirata. Con passo risoluto, salì sul palco e, sedutosi su uno dei seggi lasciati liberi dai segretari di Stato, prese un foglio di carta e si mise a scrivere. Quando ebbe terminato, si alzò in piedi e a voce alta lesse alla gloria del nostro unico Salvatore Gesù Cristo, il concilio ecumenico delle Chiese di Dio riunito a Gerusalemme, poiché il nostro beatissimo fratello Giovanni, rappresentante della cristianità orientale, ha convinto il grande impostore, nemico di Dio, di essere l'autentico Anticristo, predetto dalla Sacra Scrittura, e poiché il nostro beatissimo padre Pietro, rappresentante della cristianità occidentale. Con la scomunica lo ha, secondo legge e giustizia, scacciato per sempre dalla Chiesa di Dio, oggi, davanti ai corpi di questi due martiri della verità, testimoni di Cristo, delibera di rompere ogni rapporto con lo scomunicato e la sua esecrabile accozzaglia, di ritirarsi nel deserto e attendere l'immancabile venuta del nostro vero sovrano, Gesù Cristo. Una grande animazione si impadronì dalla folla, ed eccheggiarono voci possenti che dicevano «Advegnat, advegnat, cito, com, her, jesu, com!» Il professor Paoli aggiunse ancora un po' scritto e poi lesse «Approvando all'unanimità questo primo ed ultimo atto dell'ultimo concilio ecumenico, apponiamo le nostre firme» e fece un gesto d'invito all'assemblea. Tutti si affrettarono a salire sul palco e a firmare. Alla fine lui pure firmò a grossi caratteri gotici «Duorum, Defectorum, Testium, Locum, Tenens, Ernst, Paoli» «Ora andiamocene con la nostra arca dell'Alleanza dell'Ultimo Testamento» disse indicando i due cadaveri. I corpi furono essati su barelle. Lentamente al canto di inni in latino, in tedesco e in slavonico ecclesiastico, i cristiani si avviarono alla porta di Aram es Sheriff. Qui il corteo fu fermato da un messo dell'imperatore, un segretario di Stato accompagnato da un ufficiale con un plotone della guardia. I soldati si schierarono presso la porta e da un podio il segretario di Stato lesse quanto segue. Ordine di sua maestà divina per istruire il popolo cristiano e metterlo in guardia contro uomini malintenzionati, fomentatori di discordi e di scandali. Abbiamo ritenuto opportuno disporre che i corpi dei due sediziosi uccisi dal fuoco del cielo siano esposti in pubblico nella strada dei cristiani a Ret en Nazara, vicino alla porta principale del tempio di questa religione chiamata Santo Sepolcro o altrimenti Resurrezione, perché tutti possono persuadersi della realtà della loro morte. I loro ostinati partigiani, poiché malignamente respingono ogni nostro beneficio e da insensati chiudono gli occhi davanti alle evidenti manifestazioni della divinità stessa, grazie alla nostra misericordia e alla nostra intercessione presso il Padre Celeste, sono esenti dalla pena di morte mediante il fuoco del cielo che si sono meritata e rimangono in completa libertà con l'unica proibizione per il bene comune di abitare nelle città e negli altri luoghi popolati affinché non possano sviare e sedurre con le loro malvagie invenzioni la gente ingenua e semplice. Quando ebbe finito, otto soldati a un cenno dell'ufficiale si avvicinarono alle barelle dove giacevano i corpi. «Si compie ciò che è scritto», disse il professor Paoli, e i cristiani che portavano le barelle recedettero senza una parola ai soldati, i quali si allontanarono dalla porta di nord-ovest. D'accanto loro i cristiani uscendo dalla porta di nord-est si diressero rapidamente dalla città verso Gerico. Passando accanto al Monte degli Olivi per la strada che i gendarmi e due reggimenti di cavalleria avevano in precedenza sgombrato dalla folla del popolo. Essi decisero di aspettare alcuni giorni sulle colline deserte vicine a Gerico. L'indomani mattina giunsero dal Gerusalemme dei pellegrini cristiani, loro amici, e raccontarono ciò che era accaduto a Sion. Dopo il pranzo di corte tutti i membri del concilio erano stati convocati nell'immensa sala del trono dove si supponeva sorgesse il trono di Salomone e l'imperatore, rivolgendosi ai rappresentanti della gerarchia cattolica, aveva dichiarato che il bene della Chiesa esigeva da essi l'immediata elezione di un degno successore dell'apostolo Pietro, ma che nelle presenti circostanze di tempo l'elezione doveva avvenire con procedura sommaria. La presenza di lui, l'imperatore, capo e rappresentante di tutto il mondo cristiano, valeva largamente a compensare l'omissione delle formalità rituali e che in nome di tutti i cristiani egli proponeva al Sacro Collegio di eleggere il suo diletto amico e fratello a Pollonio, affinché lo stretto legame esistente fra loro rendesse duratura e indissolubile l'unione della Chiesa con lo Stato per il bene comune. Il Sacro Collegio si ritirò in una camera particolare per il conclave e dopo un'ora e mezzo ritornò con il nuovo Papa a Pollonio. Frattanto, mentre si procedeva all'elezione, l'imperatore con parole piene di dolcezza, saggezza ed eloquenza cercava di persuadere i rappresentanti degli ortodossi e degli evangelici a mettere fine ai vecchi dissidi in vista di una nuova grande epoca storica del cristianesimo, rendendosi garante con la sua parola che a Pollonio avrebbe saputo abolire una volta per sempre gli abusi storici del potere papale. Convinti da queste sue parole, i rappresentanti dell'ortodossia e del protestantesimo avevano steso l'atto di unione delle Chiese e quando a Pollonio comparve nella sala con i cardinali tra le grida di giubilo di tutta l'Assemblea, un vescovo greco e un pastore evangelico gli presentarono il loro documento «Acipio et approbo et leatificatur cor meum» disse a Pollonio apponendo la sua firma «Io sono del pari un vero ortodosso e un vero evangelico come sono un vero cattolico» aggiunse egli scambiando un amichevole abbraccio col greco e col tedesco. Poi si avvicinò all'imperatore il quale lo abbracciò e lo tenne a lungo tra le braccia. In quel momento dei puntini luminosi cominciarono a volteggiare in tutte le direzioni nel palazzo e nel tempio. Essi ingrandirono e si mutarono in ombre luminose di esseri strani. Fiori mai veduti sulla terra cadevano dall'alto riempiendo l'aria di un profumo arcano. Si diffondevano dall'alto deliziosi suoni di strumenti musicali fino all'ora sconosciuti che andavano dritto all'anima e afferravano il cuore mentre voci angeliche di invisibili cantori glorificavano i nuovi sovrani del cielo e della terra. Frattanto uno spaventoso rumore sotterraneo echeggiava nell'angolo nord-ovest del palazzo centrale sotto il Kubet el-Arwak vale a dire sotto la cupola delle anime dove secondo la tradizione musulmana si trova l'entrata dell'inferno. Quando gli astanti sul vito dell'imperatore si mossero verso quella parte tutti intesero chiaramente innumerevoli voci acute e penetranti mezzo fanciullesche e mezzo diaboliche che esclamavano è giunta l'ora liberateci o salvatore o salvatori ma quando a Pologno stringendosi verso l'orup per tre volte gridò verso il basso qualcosa in una lingua sconosciuta le voci tacquero e il rumore si interruppe. Frattanto una folla immensa di popolo proveniente da tutte le parti aveva circondato Aram Es-Sherif al calar della notte l'imperatore col nuovo papa aveva fatto la sua apparizione sulla gradinata orientale sollevando una tempesta di entusiasmo egli salutò affabilmente in tutte le direzioni mentre a Pologno traeva da grandi canestri postigli innanzi dai cardinali segretari e lanciava in aria senza interruzione magnifiche candele romane razzi e fontane di fuoco che accendendosi al tocco delle sue mani si trasformavano in perle fosforescenti e in luminosi arcobaleni tutto questo toccando terra si mutava in innumerevoli fogli di carta di vari colori con indulgenze plenarie senza condizione per tutti i peccati passati presenti e futuri l'esultanza popolare sorpassò ogni limite a dire il vero alcuni affermavano di aver visti coi propri occhi quei fogli di indulgenza trasformarsi in rospi e serpenti estremamente schifosi non di meno l'enorme maggioranza della gente andava in visibilio e la festa popolare si protrasse ancora alcuni giorni durante questo tempo il nuovo papa Tamo Aturgo arrivò a compiere dei prodigi così sbalorditivi e incredibili che sarebbe del tutto inutile darne una narrazione nello stesso tempo sulle alture deserte di Gerico i cristiani si dedicavano al digiuno e alla preghiera la sera del quarto giorno sull'imbrunire il professor Paoli e nove compagni cavalcando degli aseni e trainando una carretta penetrarono in Gerusalemme passando per vie traverse fino ad Aram Es Sherif sboccarono ad Aret En Nazara e raggiunsero l'entrata del tempio della risurrezione dove sul pavimento giacevano i corpi di Papa Pietro e dello Starez Giovanni a quell'ora la via era deserta tutta la città al completo si era riversata ad Aram Es Sherif i soldati di guardia erano immersi in un sonno profondo i nuovi arrivati trovarono che i corpi non erano stati toccati dal processo di decomposizione e addirittura non erano diventati rigidi e grevi li starono su barelle li ricoprirono con mantelli che avevano e portato con sé e percorrendo le stesse vie traverse ritornarono dai loro fratelli ma non appena ebbero posate a terra le barelle lo spirito della vita rientrò nei due morti essi si agitarono cercando di sbarazzarsi dei mantelli che le avviluppavano tutti presono ad aiutarli con grida di gioia e ben presto i due risuscitati si alzarono in piedi sani e salvi e il re di vivo Starez e Giovanni prese così a parlare ecco dunque figlioli miei che noi non ci siamo lasciati ed ecco ciò che vi dirò adesso l'ora è giunta che si adempia l'ultima preghiera di Cristo per i suoi discepoli che essi siano uno come lui stesso col padre è uno così per questa unità in Cristo figlioli miei veneriamo il nostro carissimo fratello Pietro gli sia concesso finalmente di pascere le pecore di Cristo proprio così fratello ed egli abbracciò Pietro a questo punto si avvicinò professor Paoli tu es Petrus disse rivolto al Papa gli strinse forte la mano con la destra mentre tendeva la sinistra allo stare su Giovanni così si compì l'unione delle chiese nel cuore di una notte oscura su un'altura solitaria ma l'oscurità della notte venne a un tratto squarciata da un vivido splendore e in cielo apparve il grande segno una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle l'apparizione restò per qualche tempo immobile poi si mosse lentamente verso sud il Papa Pietro alzando il pastorale esclamò ecco la nostra insegna andiamo sulle sue orme ed egli si incamminò nella direzione indicata dall'apparizione insieme ai due vegliardi e a tutta la folla dei cristiani verso il monte di Dio verso il Sinai a questo punto il lettore si ferma la dama perché dunque non continuate il signor Z il manoscritto non va più avanti il padre Pansofio non ha potuto portare a termine il suo racconto già malato mi narrava ciò che aveva in mente di scrivere in seguito non appena sarò guarito diceva ma non guarì e la parte finale del suo racconto è sepolta con lui nel monastero di Danilovo la dama ma voi ricorderete certamente quello che vi ha narrato raccontatecelo dunque il signor Z ne ricordò soltanto i tratti principali dopo che i capi spirituali e rappresentati della cristianità si furono ritirati nel deserto dell'Arabia dove da ogni parte affluirono a loro folle di fedeli zellatori della verità il nuovo Papa potesse senza alcun ostacolo corrompere attraverso i suoi prodigi e miracoli tutto il resto dei cristiani superficiali che non si erano ricreduti circa l'anticristo egli dichiarò che con la potenza delle sue chiavi aveva aperto le porte fra il mondo terrestre e quello d'oltre tomba e in effetti divenne un fenomeno abituale la comunicazione dei vivi coi morti ed anche degli uomini coi demoni inoltre si svilupparono nuove forme inaudite di orgia mistica e demonolatria ma non appena l'imperatore cominciò a credere di essere saldamente sistemato in campo religioso e dopo che sotto la pressante suggestione della misteriosa voce paterna ebbe a dichiararsi unica e vera incarnazione della divinità suprema universale gli capitò una disgrazia nuova da parte di chi nessuno si sarebbe aspettato si erano ribellati gli ebrei questo popolo il cui numero aveva raggiunto a quel tempo i 30 milioni di individui non era del tutto estraneo alla preparazione e all'affermazione dei successi universali del super uomo quando si era trasferito a Gerusalemme aveva fatto segretamente correre la voce nei circoli ebraici che il suo obiettivo principale era di stabilire il dominio di Israele su tutto il mondo e allora gli ebrei lo avevano riconosciuto come il messia e la loro entusiastica dedizione per lui non ebbe limiti all'improvviso si erano ribellati ispirando collera e vendetta questo brusco voltafaccia senza dubbio predetto e dalla scrittura e dalla tradizione è presentato da padre Pansofio forse con eccessiva semplicità e soverchio realismo il fatto si è che gli ebrei i quali ritenevano l'imperatore come un perfetto israelita per razza avevano scoperto per caso che egli non era nemmeno circonciso quello stesso giorno a Gerusalemme e l'indomani in tutta la Palestina scoppiò la rivolta la dedizione ardente e senza limiti verso il salvatore di Israele e il messia annunciato si tramutò in un odio altrettanto ardente e senza limiti nei confronti dell'astuto truffatore e dello sfrontato impostore tutto l'ebraismo si sollevò come un solo uomo e i suoi nemici scopersero con sorpresa che l'anima di Israele nel suo fondo non vive di calcoli e delle bramosie di Mammona ma della forza di un sentimento sincero nella speranza ed il corruccio nella sua eterna fede messianica l'imperatore che non si aspettava una simile esplosione così all'improvviso perdette la padronanza di se stessa ed emanò un decreto che condannava a morte tutti i rebelli ebrei e cristiani molte migliaia e decine di migliaia di uomini che non avevano fatto in tempo ad armarsi furono ospitatamente massacrati ma ben presto un esercito di un milione di ebrei si impadronì di Gerusalemme e costrisse l'anticristo a rinchiudersi in Aram es-Sherif questi non aveva a sua disposizione che una parte della guardia e non poteva spuntarla contro la massa dei nemici mediante le arti magiche del suo papa l'imperatore riuscì a filtrare attraverso le linee degli assedianti e ben presto egli ricomparve in Siria alla testa di uno sterminato esercito di pagani di varie razze gli ebrei anche se le probabilità di vittoria erano scarse gli mossero incontro ma non appena le vanguardie dei due eserciti ebbero iniziato il combattimento ecco che si produsse un terremoto di inaudita violenza sotto il mar morto presso il quale si erano schierate le truppe imperiali si è persi il cratere di un enorme vulcano e torrenti di fuoco fusi insieme in un lago di fiamme inghiottirono lo stesso imperatore tutte le sue innumorevoli schiere ed il suo inseparabile compagno il papa Apollonio cui la magia non recò alcun soccorso frattanto gli ebrei corsero a Gerusalemme spaventati e tremanti invocando la salvezza del Dio d'Israele quando la santa città parve ai loro occhi un grande baleno squarciò il cielo da oriente a occidente ed essi videro il Cristo che scendeva a loro incontro in veste regale con le piaghe dei chiodi sulle mani distese intanto dal Sinei si mosse verso Sion la folla dei cristiani guidati da Pietro Giovanni e Paolo mentre da altre parti accorrevano altre folle entusiaste erano tutti gli ebrei e tutti i cristiani mandati a morte dall'anticristo erano risuscitati si accingevano a vivere con Cristo per mille anni è con questa visione che il padre Pansofio voleva finire il suo racconto che aveva per soggetto non già la catastrofe dell'universo ma soltanto la conclusione della nostra evoluzione storica l'apparizione l'apoteosi e la rovina dell'anticristo l'uomo politico e voi pensate che questa conclusione sia tanto prossima? il signor Z beh sulla scena vi saranno ancora molte chiacchiere e vanità ma il dramma è già stato scritto interamente da un pezzo sino alla fine e non è permesso né agli spettatori né agli attori di apportarvi alcun mutamento la dama ma in definitiva qual è il senso di questo dramma? non capisco infatti perché il vostro anticristo nutra tanto odio verso Dio mentre in fondo è buono e non cattivo il signor Z il fatto è che in fondo non è buono e in questo sta tutto il senso del dramma io ritiro le parole che ho detto in precedenza e cioè che l'anticristo non si spiega coi soli proverbi per spiegarlo integralmente basta un solo proverbio e per di più di un'estrema semplicità non è tutto oro ciò che luccica lo splendore di un bene artefatto non ha nessuna forza il generale vogliate però notare su quale evento cale il sipario di questo dramma storico sulla guerra sullo scontro di due eserciti ed ecco che il termine del nostro colloquio si è rifatto all'inizio che ve ne pare principe santi del cielo ma dov'è il principe l'uomo politico ma non avete osservato se ne è andato la chetichella nel momento patetico quando lo starez Giovanni metteva l'anticristo con le spalle al muro allora non ho voluto interrompere il racconto e in seguito mi è passato di mente il generale quanto è vero il Dio è scappato per la seconda volta ha saputo dominarsi però non ha saputo resistere ah Dio mio fine la chetichella non ha saputo